Si sono conclusi con successo i festeggiamenti in onore del patrono San Vincenzo ad Aragona. Il programma delle manifestazioni è stato sostenuto dall'amministrazione comunale preseduta dal sindaco Giuseppe Pendolino, a fianco del vice sindaco Nino Contino, gli assessori Renata Miciche e Raimondo Chiara. La ciliegina sulla torta è stato il concerto dei Mattia Bazzar, seguito da oltre 6.000 persone. Ascoltiamo Vacanze Romane. La ciliegina sulla torta è stato sostenuto dal sindaco Giuseppe Pendolino, qui tutti con le mani al cielo, dai! Via! La ciliegina sulla città Vai, 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 vai! Anche la in fondo su, su! Sarete bello i cellulari! Sarete bello i cellulari! Grazie a tutti.